Belen Rodriguez ospite della finale del Grande Fratello Vip Finale Grande Fratello Vip, Belen ospite di nuovo del reality show. Belen Rodriguez torna al Grande Fratello Vip. Come si legge su chi, l'argentina più famosa in Italia sarà presente alla finale del reality show prevista per il prossimo lunedì 4 dicembre. . Secondo quanto fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini, il ruolo della showgirl sarà piuttosto movimentato. . Cosa significa? Per il momento non ci è dato saperlo. . Di sicuro Belen sarà una semplice ospite, come lo è stato in passato l'attore Raoul Bova, visto che i fratelli Geremias e Cecilia non sono tra i finalisti del programma. . Ma, dopo il grande successo dell'ospitata dello scorso ottobre, gli autori della trasmissione hanno deciso di arruolare di nuovo la conduttrice di Tussi Q e Vales. . Che, con grande piacere, ha accettato la proposta nonostante i numerosi impegni di lavoro. .